Guardate, siamo alla stazione, siamo alla stazione, qualche farabutto ha cercato di incendiare i cassonetti. Uno spettacolo impietoso nel pieno centro della città, proprio davanti alla stazione centrale, è quello che ha denunciato questa mattina con un video uno degli operatori della Dasti, l'azienda che gestisce il servizio di raccoltare i fiuti a Catania. Uno spettacolo desolante che rimanda all'immagine di una città ancora una volta vittima di ignoranza e inciviltà, teatro di episodi deprecabili che suscitano sdegno e un profondo senso di vergogna. È una vergogna per Catania, è una vergogna, ancora ci sono queste persone, vergogna. Dal 24 settembre dello scorso anno ad oggi, solo nel comune di Catania, sono stati sostituiti 365 cassonetti, 39 per la plastica, 41 per la carta, 60 per l'organico e 225 per l'indifferenziata, oltre a 7 campane per il vetro. Le zone prese prevalentemente di mira dai vandali, via Plebiscito con 5 episodi in un mese, piazza Grenoble con ben 2 episodi in 15 giorni, via del Rovetto, via Teseo, via Bellavista e via Messina, via Gramignani e via Gisira. Una lunga lista e dati allarmanti che testimoniano, come a Catania, ci sia ancora tanto da lavorare sul senso civico e sui più basilari valori del rispetto delle regole e degli altri, della civile convivenza e soprattutto del buonsenso. Guardate, se non c'ero io, cosa succedeva alla stazione centrale? Al centro di Catania, vergogna per queste persone che incendrano i cassonetti, vergogna veramente, vi dovete vergognare.